Viaggiava lungo l'autostrada del Sole con quasi 80 kg di hashish nel bagagliaio dell'auto, ma è stato intercettato dalla polizia stradale ed arrestato. È successo ad Arezzo, dove una pattuglia della postrada di Battifolle ha fermato per un controllo di routine una Hyundai i20, con al volante un uomo di 47 anni, originario del Marocco, regolare sul territorio italiano, diretto verso sud. L'atteggiamento dell'uomo particolarmente nervoso ha insospettito i poliziotti che hanno deciso di approfondire controlli, così nel bagagliaio dell'auto è stato scoperto un carico molto particolare, tre scatole di cartone contenenti 19 confezioni termosaldate con 799 panetti di hashish dal peso complessivo di quasi 80 kg. L'ingente quantitativo di sostanza stupefacente una volta immesso sul mercato avrebbe avuto un valore economico che sarebbe arrivato a 800.000 euro. Ai poliziotti il 47enne, elettricista, incensurato, avrebbe dichiarato di aver avuto poco lavoro e di aver intrapreso così quel viaggio che gli avrebbe fruttato 800 euro, una cifra che non sarà però mai saldata in quanto l'avrebbe ricevuta a missione compiuta. L'uomo è stato arrestato e condotto nel carcere Eretino di San Benedetto a disposizione dell'autorità giudiziaria, mentre la droga e il veicolo sono stati sequestrati.